Grazie a tutti. Cortometraggio bagnato, cortometraggio fortunato, questo cazzo. Guarda che giornata meravigliosa abbiamo avuto oggi, io e te. Non mi fai paura di questa strada. Basta! Chi è che muore? Dai la batta sul vetro. Chi è che mi ha dato uno schiaffo, che ha picchiato mio fratello e forse adesso che ha anche rapito Tovi. Ma è meglio io posso parlarvi? E' me coglioni. L'unica cosa da fare qui è questa. Ecco. Passi. Grazie a tutti 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 Troppo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti